Musica Buonasera, io sono Rossana De Fazzi e sono una pittrice, nonché coordinatrice insieme a Tommasina Mascaro di questa mostra collettiva. La mostra collettiva è stata inserita nel programma Essere a Soveria Bianca come la notte 2017, il nome Guernica innanzitutto perché ricorre l'ottantesimo anno della realizzazione di questo meraviglioso quadro, forse una delle opere uniche al mondo anche perché rappresenta questo Guernica, era una città spagnola e fu la prima, ebbe un primato purtroppo triste perché fu la prima città ad essere bombardata, ad essere attaccata da bombardamenti aerei e persero la vita a milioni di persone. Picasso rappresentò questa battaglia, questa guerra quindi sofferente, la realizzò prevalentemente in colori bianchi e neri, quindi molto tristi giusto proprio per rappresentare la sofferenza della guerra. In realtà questo bombardamento avvenne per terrorizzare, è una cosa che è un tema attuale, per questo anche abbiamo collegato perché noi artisti, forse anche per quanto riguarda altri tipi di lavoro, ma soprattutto io almeno artista, mi sento scoraggiata dalla crisi e da questo terrorismo perché comunque insomma è legato anche a questo, anziché questo momento di crisi è un momento di crisi non solo economico e anche di terrorismo ma anche spirituale, quindi insomma cerchiamo di non farci terrorizzare e scoraggiare ma anzi cercare di alzarci insieme, per questo la collettiva, per fare gruppo e perché il gruppo unito riesce a fare più di quanto riesce a fare l'individuo. La mostra si svolgerà fino al giorno 24, i partecipanti della mostra sono io, Rossana De Fazio, Tommasina Mascaro, Fazio Angela, Lorenzo Iannazzo, Maria Pia Iannazzo, Michele Iannazzo, Cristina Medaglia e Francesca Patitucci. E quindi ringrazio tutti quelli che hanno preso parte e che hanno collaborato, tra cui il comune di Soveria Mannelli che ci ha dato il massimo della disponibilità, questa location che si presta e oltre a questo è bellissima, ringrazio chi si è occupato anche insomma dell'organizzazione, quindi anche gli amici perché ci hanno sostenuto sia emotivamente che nell'organizzazione, quindi ringrazio in modo particolare le amiche e gli amici che ci sono stati vicini. Anche perché è stata un'esperienza nuova, anche se abbiamo organizzato altre piccole mostre personali, qualche estemporanea, però questa è stata un'esperienza, insomma, è stata lavorata e senza la collaborazione degli altri, insomma, ringrazio la prologo di Soveria Mannelli che anche loro si sono resi disponibili.